A Lentini, un panettiere col vizietto della droga arrestato dai carabinieri. Un panettiere 51enne si era creato in discreto giro d'affari arrotondando a fine mese spacciando sostanze stupefacenti. Nel corso dell'investigazione l'uomo si mostrava molto teso e inquieto. I carabinieri della stazione di Lentini, in collaborazione con i colleghi dello squadrone eliportato, Cacciatore Sicilia di Siconella, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato in fraganza un 51enne panettiere del posto poiché trovato in possesso di 150 grammi di sostanza stupefacente del tipo marihuana. I carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto, abilmente occultati all'interno della mobilia del vano Cuscina, tre barattoli in vetro contenenti la marihuana già essiccata. Altresì, all'interno di una camera, sono state trovate quattro piante di marihuana dell'altezza di circa 30 centimetri, una lampada a LED, del terriccio e del fertilizzante utilizzati per la coltivazione. La sostanza stupefacente sequestrata sarà esaminata dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti per verificarne la consistenza qualitativa e quantitativa.